E Commissione Acefale, diciamo che ce n'è una sola dove il Presidente è dimissionario, ma io l'ho convocata per la settimana prossima, in un modo o nell'altro si risolverà. Altre Commissione Acefale non ce ne sono. C'è il problema che i Presidenti non sarebbero più in maggioranza. Vabbè, questo è affidato al loro buonsenso, decidere se restare, se abdicare in senso buono, nel senso di fare un passettino, oppure restare in maggioranza. Diciamo che io dei precedenti trascorsi, ormai a Palazzo Mosti, mi sono candidato la prima volta nel 1996, da allora frequento Palazzo Mosti, ininterrottamente, per il passato non sarebbe mai successo una cosa del genere, perché era affidata al buonsenso dei consigli che usciva dalla maggioranza a fare un passo indietro. Questo è affidato alla sensibilità, perché non è prevista ancora l'ufficio, non l'ufficio, lo strumento della fiducia costruttiva. Però, come dicevo prima, è affidato al buonsenso. Penso che anche questi problemi si risolveranno, soprattutto nell'interesse della città, per poter affrontare le varie argomentazioni, soprattutto in questo momento Covid.